Grazie a tutti. 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 Per me la casa, oltre ad essere una struttura, è lo stare insieme dentro una famiglia con amore e divertimento. Mi sento a casa quando sono libera, quando non devo avere paura dei giudizi. Per me la casa è un posto dove puoi fare tante cose come leggere, stare insieme agli amici, giocare e divertirsi insieme. Per me, per me la casa può essere un qualunque luogo dove mi sento serena. Anche il quartiere può essere casa. Per me la 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 casa. Mi sento accolta per quello che sono. perché il mio è un quartiere dove ci sono tante persone diverse. È un quartiere multietnico, con una propria sinfonia, che capiscono soltanto gli abitanti. Composta dalle lingue parlate delle persone, dal rumore del trenino, dal traffico delle macchine e dalla sirena alle ambulanze. Per me è un quartiere diverso, ma che racchiude tutto il mondo. Per me è un quartieremilitario. Passatamente. Passate la/. Il posto è nella prima fila. Cos'è una casa? È nel buio, nel mezzo della notte, senza luci, la strada che posso trovare. È un gelato estivo che toglie il calore dall'anima. È il fuoco in inverno che riscalda il cuore. È la pioggia primaverile che idra i fiori e le piante. È la brezza d'autunno che porta via l'irritabilità nel cuore. La casa è il posto più bello che c'è. La casa è il posto più bello.